Buona la prima, questa mattina sono stati attivati i semafori intelligenti su Viale Marconi in direzione sud-nord e per la prima volta un mezzo pubblico ha attraversato la rotatoria che incrocia via Conte di Ruvo. Al primo passaggio alle 9 in punto c'era qualche curioso e gli agenti della polizia locale come sarà regolato il traffico sulla strada più chiacchierata di Pescara. L'autobus arriva in prossimità dell'incrocio e viene recepito grazie a sensori particolari che si attivano facendo scattare il rosso per le autovetture. Il mezzo pubblico taglia la rotatoria, una corsia preferenziale insomma che snellisce notevolmente il traffico. Resta ferma la precedenza e pedoni che prenotano il passaggio sulle strisce. Si fa prima a quanto pare si fa uno sconto all'ambiente sul biossido di azoto che pare aumentato in tutte e quattro le province non solo a Pescara stando a quanto comunicato nei giorni scorsi dall'Egambiente anche se si dovranno attendere i dati di febbraio dell'Arta. Certo è che se il buongiorno si vede dal mattino saranno sborzate molte critiche su Viale Marconi o almeno sui semafori intelligenti. In attesa del report che non avrà i tempi del cantiere più longevo di Pescara si spera intanto l'amministrazione Masci incassa il primo vero successo dell'intero progetto. Ora si attendono gli altri impianti installati ma non attivi nelle tre rotatorie e nuovi semafori in altri quattro incroci. Non si può pensare che basta un semaforo intelligente per sistemare il traffico. Bisogna limitarlo nelle ore principali e la gente prende il bus, aumentare il bus chiaramente, però ce ne sono pochi di bus in giro per cui... Penso che in realtà sia molto utile per mantenere i tempi previsti degli autobus. Per me è una cosa normale, perché quando è rosso non posso passare, quando è vero passo. Quale pensa di questo nuovo semaforo intelligente? Che mi somiglia un poco. Perché? Perché anche io sono intelligente.